Bene, signori, signore, bentrovati qui sul mio canale YouTube. Allora, questa mattina, in un mondo di allupo allupo, tutti che gridano ribasso e quant'altro, allora ho aperto una posizione su Banca Mediolanum, questo è lo screenshot dell'eseguito, di directa. Allora, Banca Mediolanum, prezzo medio di carico, sono stato servito al meglio, a 10,01 euro, 43 azioni, quindi grossomodo il 3% del mio capitale che posso permettermi di investire in questo periodo per il mio portafoglio azionario. Quindi l'ordine è stato eseguito alle 10.46. L'aspetto interessante di Banca Mediolanum è appunto questo movimento dirompente che riporta il titolo su livelli che non si vedevano dal 2002. Quindi, personalmente, reputo molto importante questo fattore, cioè vedere un titolo che torna sui livelli di prezzo che non si vedevano da parecchi anni, per dire da parecchi decenni, io lo reputo un fattore molto importante. Ovviamente non è solo questo il motivo per il quale sono entrato sul titolo Banca Mediolanum, però occupandomi esclusivamente di analisi dei prezzi, osservando comunque un certo pattern grafico qui nell'intorno di area 940-950, alla fine ho voluto attendere questa conferma rialzista oltre 10 euro per entrare in posizione sul titolo. Quindi volevo condividere con voi questo mio recente investimento. Ovviamente mi farebbe anche piacere sapere cosa ne pensate voi di Banca Mediolanum, se è un titolo che avete in portofoglio o che magari ancora non l'avete. Fatemi sapere anche, eventualmente, se avete paura di comprare un titolo sui massimi. Io personalmente non ci trovo nulla di male, anzi, ho tutta una mia teoria. Gli acquisti di titoli in questo caso non sono massimi storici, però potrebbero benissimo esserlo perché sono massimi che non si vedono dal 2002. Bene, io sono dell'idea che quando un titolo aggiorna i massimi vuol dire che è sorretto dal mercato e siccome suppongo che il nostro unico fine sia quello di investire i nostri soldi dove c'è forza, ogni volta che un titolo aggiorna i suoi massimi io sono felice, sono contento, mantengo dentro di me questa forte emozionalità, anche perché comunque con gli anni ho imparato a gestirla, però fondamentalmente, ecco, io non mischiero contro coloro che comprano, cioè sì, mischiero, però voglio dire, a fuori di parlarne poi lì si dà troppa corda. Quindi signori, imparate a leggere i grafici, soprattutto iscrivetevi al mio canale se ancora non l'avete fatto, il mio canale YouTube perché comunque qui è dove andrò ad aggiornare la mia operatività nel corso dei prossimi giorni, delle prossime settimane, soprattutto qui sul mio canale YouTube trovate tanti contenuti che potete appunto consultare liberamente. Quindi Banca Mediolanum entra nel mio portafoglio azionario, ho già altri bancari, però non è questo il video adatto ad approfondire questo tema, quindi fatemi sapere la vostra se vi va, altrimenti trascorrite una buona giornata. Ciao!